ciao amici benvenuti nelle prime impressioni della prova demo di batora lost haven un rpg mad in italia con bel potenziale e adesso vi diciamo il perché prodotto team 17 sviluppo store my games lingua inglese con sottotitoli in italiano in sviluppo per playstation 4 playstation 5 xbox one xbox serie x e s e pc nintendo switch ovviamente le versioni playstation 4 xbox one sono retrocompativi per le console next gen playstation 5 xbox serie x e s support 4k si retroesi attivo o no il prezzo ovviamente non è ancora disponibile perché non c'è ancora una data di uscita ufficiale come genere un rpg azione hack and slash e twin stick shooter insomma un bel mix di generi parliamo un po della grafica il gioco ha dato uno stile cell shending per dare al gioco quel tocco da diciamo fumetto molto accattivante la demo ci ha permesso di provare una piccola parte delle abitazioni che saranno presenti ovviamente al gioco completo quindi per il momento purtroppo possiamo dire solo quello che abbiamo visto allora le abitazioni che abbiamo potuto provare nella demo ci sono sembrate dettagliate e ovviamente diciamo abbastanza varie per quanto riguarda diciamo i vari percorsi dove ci si può muovere ovviamente bisogna esaminare al gioco completo se tutte queste abitazioni sono molto varie e c'è una buona varietà di location che primo momento purtroppo come detto prima è un po impossibile non abbiamo constatato nessun calo di frame rate anzi se notate dei piccoli rallentamenti il nostro pc che ormai vecchio e purtroppo perde un po i colpi parliamo anche dei design dei personaggi anche dei nemici come avevo detto prima come per le abitazioni anche qui è un po difficile valutare diciamo la varietà e diciamo anche il dettaglio dei personaggi quello che abbiamo potuto vedere ovviamente i personaggi che abbiamo visto sono dettagliati ben caratterizzati con animazioni fluide come ho detto prima la loro varietà e anche per quanto riguarda i personaggi ci verranno presentati per il momento senza un gioco completo è possibile valutare appieno il gioco parliamo invece cosa abbiamo provato nella demo la demo ci ha permesso di provare una piccola parte del del gioco tra combattimenti ovviamente dialoghi e toccandolo con mano abbiamo percepito una forte somiglianza con diablo qui in questo caso abbiamo una protagonista che potrà usare due stili di attacco allora avrà l'attacco corpo a corpo e l'attacco praticamente sarebbe attacco psichico praticamente in grado di sparare dai proiettili contro i nemici una cosa che abbiamo anche notato durante le fasi di combattimento i nemici proposti nel gioco a meno quelli presenti nella demo erano deboli a determinati attacchi cioè alcuni erano deboli con l'attacco corpo a corpo altri invece erano deboli con gli attacchi psichici gli sviluppatori praticamente hanno detto che questo questa particolarità costringerà i giocatori a combinare gli attacchi per poter devastare i nemici e ovviamente non rimanere mai fermo sulla mappa di gioco e cambiare e combinare gli stili d'attacco a vicenda praticamente questa è un'ottima cosa perché rende l'azione di gioco movimentata frenetica e anche piuttosto varia ovviamente anche qui il bilanciamento la varietà d'azione e sempre da valutare a gioco completo però come stile di combattimento diciamo che ci ha fatto una bella impressione adesso direi da passare alla sintesi per dimmi un po' cosa ne penso di primo momento come prime impressioni di batora lost haven ci vediamo tra poco intanto vi lascio un pezzettino del gameplay giusto poco poco finalmente gli studi italiani di sviluppo stanno man mano prendendo piede producendo dei dei giochi diciamo di buona qualità abbiamo visto ad esempio i giochi anche per l'esclusiva nintendo come come il nuovissimo mario rabbit quello che sarebbe col gioco di strategia tipo la xcom con i personaggi di mario e i coniglietti rabbit e adesso vi sfugge un po il nome comunque stanno facendo di seguito e anche quello portano alla recensione quando uscirà comunque stavo dicendo gli studi italiani stanno man mano diciamo sorgendo a galla abbiamo anche lo studio di invade studio quelli che hanno fatto il famoso day more 1998 che nonostante i suoi piccoli difetti comunque ha discorso un ottimo successo tanto è vero che stanno facendo di seguito e noi abbiamo portato la prima anteprima dalla prova demo qui sul nostro canale e ovviamente con uscirà il gioco porteremo anche la recensione poi c'è anche un altro studio che sta facendo un gioco che è fortemente ispirato a devil my cry o nair automata che si chiama solstice non è un sols non è un down joe crove è un gioco action un'altra cosa poi dopo c'è altri piccoli studi italiani che stanno portando anche loro dei progetti e più c'è anche questo studio prodotto da team 17 e ovviamente sviluppato come ho detto prima da stormy games che sta portando un suo action rpg con elementi anche in slash e anche shooter chiamato bettora lost haven quando ho scaricato la demo era un po scettico detto sinceramente tra noi però dopo una volta provata la demo con mano e seguendo un po diciamo alcuni spettatori della trama ho notato che lo stile grafico scelto cioè il shen shenning che viene utilizzato per dare i giochi quel tocco di anime o tipo da fumetto il risultato è essere un gioco piacevole visibilmente molto accattivante e anche le animazioni dei personaggi a meno da quello che abbiamo visto sembrerebbero ben curate ed itagliate il frame rate c'è a passo stabile quindi penso che la versione completa del gioco se già va bene così con la versione completa sarà comunque di buona fattura poi abbiamo provato anche gameplay gameplay è molto interessante per due elementi la protagonista è in grado di usare praticamente due due stili di combattimento corpo a corpo e le fasi dove si spara questi stili questi due stili qua non sono stati messi così a caso gli sviluppatori hanno voluto ovviamente dare dei nemici di vario genere che noi speriamo che la versione completa ci sia un bel pezzettone da provare però quel poco che abbiamo provato dalla beta ci ha fatto capire la direzione che vogliono diciamo dare i sviluppatori ovvero che il giocatore deve muoversi continuamente sulla mappa di gioco attaccare i nemici e sfruttare le abilità pesco figi nemici che sono deboli in quel determinato tipo di attacco ovviamente se noi attacchiamo col corpo a corpo un nemico che può essere debole diciamo alle fasi psichiche ovviamente non creeranno danni anzi è più facile che lui ha la meglio questa cosa rende l'azione frenetica movimentata e anche divertente e anche tattica ci è piaciuto molto e poi il gioco diciamo che è come se fosse una sorta di diablo like non è male c'ha del bel potenziale speriamo che gli sviluppatori annunciano la data di uscita perché di sicuro porteremo la recensione quando uscirà adesso non so per quale piattaforma si è portata per playstation xbox quello che ci capita sotto mano noi la porteremo comunque il gioco ci ispira tantissimo bene io ragazzi vi dico grazie per aver seguito queste prime impressioni di batora lost haven spero che vi sia non piaciuta e spero che vi sia piaciuta scusate se straparlo link sotto nei commenti fatemi sapere un po anche voi come vi sembra se vi piace oppure no se caso anche voi magari in futuro lo coprerete comunque aspettate pure la nostra recensione non c'è problema e sempre come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale alle nostre pagine social facebook astri instagram vi invito anche a passare nei nostri gruppi dalla redazione coppa di open team o di maniaci anime manga se caso volete passate anche nei nostri gruppi consigliati con loro rispettivi anche canali con loro contenuti praticamente di loro proprietà ovviamente e poi vi invito anche a passare nel nostro negozio consigliato gamestarte.it che noi collaboriamo per le notizie e anche per i videogiochi in commercio se volete passate anche se caso venite a fare vacanza la venoma bello non si sa mai magari avete bisogno di una piccola sistemata la macchina o magari sono io che va a buco di nascosto da bevetto scusato passate da bordoletti carlo che fa anche le autoriparazioni delle auto d'epoca tipo la vols baghe bene questo è tutto un saluto da un misterioso da ladyblu e da vostro amico bombe e noi ci vediamo per la prossima puntata ciao a tutti ragazzi bye bye